ciao a tutti benvenuti sul canale di mix and remix cosa sto facendo sto togliendo la pellicina che ricopre il diaframma poi vi spiego bene cos'è questo muscolo comunque l'ho staccata un pochino con il coltello un coltello bene affilato adesso appoggiando la mano qui e tirando si staccherà tutta se provate a tirarla mettete il coltello qui lo premete bene e tirate indietro così non si strappa la fibra è perché come vi ho detto è molto tenera questa carne si si ve l'ho detto ve l'ho detto tenerissimo fatto non è un'operazione difficile adesso vado a togliere anche quella dall'altra parte stesso tipo di operazione ecco fatto come si prepara il diaframma allora si può fare alla braccia ottimo alla braccia anche alla piastra si può cucinare oppure si possono usare per tritato per fare il raguola bolognese anzi è proprio la carne che dovrebbe essere usata per fare il raguola bolognese solo che sulle ricette poi magari non la leggete questa cosa perché è una carne molto tenera molto irrorata di sangue è una carne che ha molto ferro e anche a vitamina b12 si presenta anche bene per quello comunque se volete la potete fare a pezzi oppure mettere intera sulla griglia prima magari mettete dell'olio cospargetela di sale grosso la passate sulla griglia o sulla piastra tre minuti per parte deve essere un pochino al sangue non deve non deve essere cotta cotta insomma è una carne che resterà tenera poi prima di servirla basterà fare dai tagli così trasversali vedete com'è la fibra della carne ecco dettagli trasversali alla carne modo da tagliare la fibra e poi dopo buon appetito comunque quando quando sarà pronta mi piace molto questa parte per cui cosa ho fatto mi trovati quattro e quattro presi adesso li ho preparati devo preparare l'ultimo e poi ho finito fatto la pelle si è staccata tutta vedete ed è restato solo il diaframma mi raccomando non togliete il grasso cioè se non vi piace il grasso non prendetela proprio perché è impossibile tra l'altro toglierla una parte del diaframma che è un po più stretta e anche un pochino più bassa alle volte la potete anche usare per gli involtini come dicevo semplicemente assottigliandola tagliandola praticamente a metà è un bel coltello affilato ce la fate ecco qua il diaframma l'ho preparato per la metterlo sulla griglia ho messo del sale grosso ed immaginato al momento un filo d'olio è sufficiente quello ecco qua che bello il diaframma cotto impiattato ecco qua il diaframma nel piatto è pronto buonissimo buon appetito a tutti mettete un like sul canale grazie ciao